Spalanca delle porte di conoscenza che non sono assolutamente divulgate e che creano un rapporto particolare con la natura. Quest'idea dei campi elettromagnetici che comunque l'uomo conosce, la scienza conosce, ma contengono comunque una componente di mistero, in questo corso vengono analizzati sia in chiave oggettiva scientifica sia dal punto di vista empirico per far capire quanto sono importanti e soprattutto quanto sono importanti nell'ambiente e nella natura ma anche nell'interazione tra uomo e pianta, che è molto affascinante.